ciao ragazzi bentornati super tecnicamente fantastici come sempre amo recensire le lampade solari e in palma sfidito e ringrazio questo nuovo modello super compatto pensate in pochi centimetri oltre ad essere resistente all'acqua al freddo a tutto quanto impermeabile in pexiglass ricoperte sensori di movimento ci sono ben 140 led e quasi 500 lumen di potenza sono veramente compatte piccole basta prendere il muro anche con un solo con un solo tassello o se no si possono anche utilizzare comunque ad appoggio ma sono veramente compatte e molto belle devo salutare francesco marini l'utente più veloce dello scorso video ciao francesco continuo appunto dicendo che a poco più di 20 euro poi trovate il link amazon per potete per poterle acquistare potete acquistare queste due comodissime lampe da libera installazione che non solo sono comode pratiche e rilevano quando passate il movimento con tre modalità diverse ma vi fanno anche risparmiare corrente sulla bolletta in quanto funzionano quello che il futuro la luce solare quello che poi spero nel futuro sarà tutto fotovoltaico come giusto che sia eccole qua ci sono ben due vedete già si accende una vedete che potenza led perché dentro era buio quindi il sensore riconosciuto bella confezione semplicissima le viti con i tasselli per poterle installare a muro ci sono tre uno e di scorta scatola via non ci serve più le due lampade che sono qua dentro nella confezione con un piccolo manuale di istruzioni molto semplice poi anche online trovate assolutamente questa è la seconda lampada ve ne faccio vedere una perché sono identiche allora vedete che bella questa lampada ma quello che salta al balzo perché poi si intende di questi prodotti del sensore che è molto grande più un sensore di movimento grande ovviamente più rileva velocemente istantaneamente il movimento quindi il sensore è molto importante questo è un sensore proprio come empow sempre fa abbastanza grande molto grande quindi infatti il fulminio appena vi vede anche a distanza di angolo parte e illumina il buco per poterla prendete il pannellino fotovoltaico che va a prendere la luce solare non le ancora ricaricate perché l'ho appena aperte eppure già sono ben cariche illuminano bene dopo vi farò vedere anche al buio la sua potenza perché sono ben 140 led in questo piccolo prodotto ma che comunque esprime un'energia di luce molto molto un fascio luminoso molto potente che per coprire uno spazio diciamo dove non abbiamo illuminazione può essere assolutamente comoda dietro beh all'interno c'è una batteria ricaricabile al litio adesso vede se è già accesa perché rileva il buio del tavolo quindi ricaricabile assolutamente la durata di qualche anno quindi molto durevole anche nel tempo qui c'è il testo d'accensione il testo d'accensione a tre modalità se premete una volta fa un lampeggio ed entra nella modalità mi illumino quando è buio e voi passate davanti 30 secondi se premete un'altra volta fa due lampeggi ed entra nella modalità luce debole e luce al massimo quando qualcosa passa davanti quindi quando il sensore rileva il movimento terzo tocco invece luce fissa quarto tocco spegnimento della lampada insomma per intenderci basta fare solo al giro che ecco si è spenta perché ha visto la luce basta premere tre volte su questo tasto per passare alla modalità 1 accensione di 30 secondi al massimo della potenza la seconda luce debole luce forte la terza luce fissa poi spegnimento quindi molto semplice anche dal punto di vista dell'utilizzo cosa fa di questo prodotto un acquisto veramente consigliato beh intanto è un paura ditta che garantisce su queste lampade la massima tecnologia ed efficienza e soprattutto robustezza molto robusta impermeabile esistente acqua freddo e sole tutto quanto ovviamente calore è molto compatto i materiali sono molto solidi credetemi che la lampada è molto ben costruita un gran sensore ma soprattutto la prova che dobbiamo fare è appunto vedere al buio la sua illuminazione perché poi quello che conta è l'uso che dobbiamo fare da illuminate quindi vado a spegnere la luce e vi farò vedere col sensore come si vede adesso siamo al buio ma non spaventatevi perché basta passare una mano davanti e vedete fascio luminoso molto potente si alzo perché da qua non vi potete rendere conto il lumino il tavolo per farvi capire il fascio di luce che ha questa questa lampada e qua sono vicino ovviamente però immaginate in un ambiente buio comunque 140 led quasi 500 lumine hanno un'illuminazione molto più potente di quello che si può pensare per un prodotto così piccolo anche questo voglio dire perché è compatto ma non per questo potente e ben risoluto a livello di illuminazione dopo 30 secondi questa luce si spegnerà perché ha un sensore automatico che se non rileva il movimento si spegne io adesso invece vado a riaccendere la luce così poi si spegne naturalmente già con la luce da sola perché rileverà che c'è luce di conseguenza non servirà più vedete questo per farvi capire anche la volta la bontà del sensore è arrivata la luce il sensore ha subito mollato l'illuminazione quindi cosa importante sensore molto presente molto efficace buio mi illumino accendo la luce subito spento non tutti funzionano così rapidamente detto questo tiriamo subito le conclusioni perché poi non c'è tantissimo altro dire su questo prodotto molto comode punti luce oramai di questi tipi di lampade ce ne sono tantissime però fatte così bene in power una ditta molto performante da questo punto di vista ben costruita gran sensore che comunque rileva subito il movimento e anche l'accensione della luce immediata come lo spegnimento in caso di luce buona la batteria molto potente l'illuminazione poco più di 20 euro secondo me sono veramente una coppia di lampade consigliata per chi vuole in un piccolo spazio magari illuminare bene un punto luce dove non si ha la luce soprattutto non portare cavi elettrici che oltre che essere ok va sempre bene l'elettricità però oltre ad essere un diciamo un lavoro in più e anche una spesa in più da paolo guala alle prossime e grazie come sempre ciao 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 ciao